Ciao a tutti amici, ben ritrovati. Oggi voglio condividere con voi una splendida riflessione sull'amore scritta da uno dei miei autori preferiti, Herman Hesse. Amare è la capacità di sentire. Buon ascolto a voi, buona lettura a me. Quanto più invecchiavo, quanto più insipide mi parevano le piccole soddisfazioni che la vita mi dava, tanto più chiaramente comprendevo dove andasse cercata la fonte delle gioie della vita. Imparai che essere amati non è niente, mentre amare è tutto. Sempre più mi parevi di capire ciò che dà valore e piacere alla nostra esistenza, non è altro che la nostra capacità di sentire. Ovunque scorgessi sulla terra qualcosa che si potesse chiamare felicità consisteva di sensazioni. Il denaro non era niente, il potere non era niente. Si vedevano molti uomini che avevano sia l'uno che l'altro, ed erano infelici. La bellezza non era niente. Si vedevano uomini belli e donne belle che erano infelici, nonostante la loro bellezza. Anche la salute non aveva un gran peso. Ognuno aveva la salute che si sentiva. C'erano malati pieni di voglia di vivere che fiorivano fino a poco prima della fine. E c'erano sani che avvizzivano angosciati per la paura della sofferenza. Ma la felicità era ovunque una persona avesse forti sentimenti e vivesse per loro. Non li scacciasse, non facesse loro violenza, ma li coltivasse e ne trasse godimento. La bellezza non appagava chi la possedeva, ma chi sapeva amarla e adorarla. C'erano moltissimi sentimenti all'apparenza, ma in fondo erano una cosa sola. Si può dare al sentimento il nome di volontà o qualsiasi altro. Io lo chiamo amore. La felicità è amore. Nient'altro. Felice chissà amare. Amore ogni moto della nostra anima in cui essa senta se stessa e percepisca la propria vita. Ma amare e desiderare non è la stessa cosa. L'amore e desiderio fattosi saggio. L'amore non vuole avere. Vuole soltanto amare. Io vi ringrazio per aver ascoltato fino alla fine. Spero che questo pensiero sia stato per voi nutriente per la vostra anima, esattamente come l'ho stato per la mia. Vi abbraccio e vi aspetto prestissimo con una nuova lettura da condividere insieme. Un grande abbraccio da Rosanna e ovviamente se avete richieste da fare non siate timidi, scrivetemele nei commenti o in privato sulle varie applicazioni di messaggistica con cui siamo in contatto. A presto. Ciao da Rosanna!